Uno, la giuria è pronta! Mamma mia, c'è sempre tutto impetante! C'è sempre tutto impetante! Ok, entra sempre nei tuoi limiti, Gesù! Allora iniziamo proprio da paura proprio! Concorrente numero uno, lui è Chris! E interpreterà in trefretretra, Freddy, Nightmare! Uno, due, Freddy sta arrivando per te! Sapete cosa adoro dei vostri sogni? Posso farne quello che voglio! E voi? Non potete svegliarvi! Tre, quattro, meglio chiudere la chiave e la porta! No, no, aspetta! Facciamolo durare un po' di più! Voglio sentire la paura! Voglio vedere i vostri occhi spalancarsi mentre capite che non c'è via di fuga! Ah, 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 ah! Cinque, sei, guante pronto per te! Ah, ci sei tu! Stavi cercando di nasconderti? Non c'è modo di scappare da Freddy! Nemmeno nel buio! Ah, 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 ah! Sette, otto! Meglio dire addio alla luce! Mmm! Buonanotte, piccoli sognatori! Ci vediamo presto, nei vostri incubi! Pensate di poter scappare? Nessuno sfugge a Freddy! Nessuno si sveglia! Senza il mio permesso! Ah, 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 ah